Le previsioni non sono buone, quindi probabilmente si continuerà e si sforeranno i 10 giorni. Non è solo una questione di giorni, è una questione proprio di picco. Siamo a 147, quindi abbiamo sforato il record stagionale e anche degli ultimi anni. È una questione primaria, è una questione di salute. Sul fronte smog Padova sta vivendo un allarme che preoccupa sia per durata che quantità dell'inquinamento. Sono già 29 gli sforamenti del valore limite di 50 microgrammi al metro cubo di PM10 nell'aria. A febbraio dunque manca già meno di una settimana per arrivare al limite annuale delle 35 giornate previste per legge. Un allarme che preoccupa soprattutto per le conseguenze sulla salute. I rischi aumentano, prevedibilmente aumentano e aumentano anche nei fatti, nel senso che abbiamo verificato, è noto ed abbiamo verificato che per esempio i soggetti con asma bronchiale esposti a questi picchi di inquinamento rischiano delle esacerbazioni. Quindi hanno necessità di prendere una maggior quantità di farmaci, si rivolgono più frequentemente al pronto soccorso, non raramente vengono ricoverati. Da martedì è tornato il semaforo giallo con limitazioni al traffico che la settimana prossima, se la situazione non cambia, potrebbero essere stesi anche ai veicoli Euro 4 commerciali. Ma ci sono anche altri comportamenti e cambiamenti di abitudini caldamente consigliati. Evitare le attività sportive all'aperto nelle ore prime della giornata in quelle finali è importante per non esporsi ancora di più. Abbassiamo le nostre temperature, le nostre case, evitiamo le combustioni, siamo in un'emergenza. I soggetti più a rischio sono coloro che soffrono di malattie croniche, respiratorie e cardiache, i bambini. Accessi al pronto soccorso ce ne sono stati molti. Per quello che riguarda anche le consulenze e i ricoveri, diciamo che effettivamente nel corso di quest'inverno si è vista una maggior presenza di pazienti asmatici per i quali generalmente non è tanto l'inverno quanto piuttosto la primavera e i periodi dell'allergia la fase più a rischio. Quest'anno forse le cose sono un pochino cambiate. È ormai assodato che il ripetersi dell'esposizione a lungo tempo danni ne provoca. A tutti. A tutti.